Noi facciamo i pezzi che sono contenuti, ve l'avamo citati, nei romanzi di Massimo Carlotto, che è un giallista italiano. Lo dico a beneficio di chi si occupa di libri. Ecco perché abbiamo spesso in teoria. Anche di chi si occupa di delinquenza. Se avete una passione per il drammo criminoso, Carlotto è fondamentale perché vi insegna il know-how dell'underworld. Comunque, sto pezzo non ci sta in quelli di Carlotto, però mi piace. Carlotto ci perdonerà. Grazie. 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 Grazie.